Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare il bind del ricevitore FRSKY RxSR. Oltre al bind setteremo anche il failsafe. Accendiamo la Taranis e andiamo a pagina 2. Scorriamo questo menu fino ad arrivare a Internal RF e assicuriamoci che il mod sia settato su D16. Dopo ci posizioniamo su BND che significa BIND e premiamo ENTER, sentirete questo suono. Premiamo il tasto failsafe del ricevitore. Colleghiamo una batteria al flight controller per alimentare il ricevitore. Quindi rilasciamo il tasto failsafe e clicchiamo ENTER sulla Taranis. Adesso scolleghiamo la batteria e la ricolleghiamo. Come vedete il LED è diventato verde, questo significa che il ricevitore è bindato. Se a questo punto della procedura avete sia il LED verde che quello rosso sempre accesi significa che c'è incompatibilità di firmware tra radio e ricevitore. Per cambiare o aggiornare il firmware dell'RxSR potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto. Settiamo il failsafe. Per quanto riguarda i quadricotteri è il flight controller ad occuparsi della gestione del failsafe, che andrà settato su Betaflight. In ogni caso per rimuovere l'allarme all'accensione della radio impostiamo NO PULSE. In questo modo quando si interromperà il collegamento radio-ricevitore non verranno più mandati segnali al flight controller che provvederà a disarmare i motori. Questo era il mio tutorial su come bindare il ricevitore RxSR alla Taranis. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video.